L'inserimento della banda ultralarga con un finanziamento pubblico pari a 63 milioni di euro mesagne tra le prime 45 città della Puglia che beneficerà dell'infrastruttura strategica. La notizia arriva appunto dalla regione attraverso l'assessore regionale allo sviluppo economico Loredana Capone che ha personalmente comunicato al sindaco della cittadina messapica Franco Scoditti la notizia. La diffusione della banda ultralarga sul territorio regionale servirà ad abilitare in modo significativo l'erogazione dei servizi online per i cittadini e le imprese, la diffusione dell'informazione, la condivisione del patrimonio regionale e l'adozione di nuove tecnologie. Il progetto tecnico permetterà la realizzazione di infrastrutture di posa, nel particolare cavi dotti e di portanti ottici, i cavi e le fibre, per consentire agli operatori di telecomunicazione l'implementazione di reti di accesso a banda ultralarga. Ogni appartamento, ufficio o negozio potrà essere quindi collegato ad una centrale locale denominata nodo di accesso. Dalla centrale locale partirà il collegamento a tutta la rete attraverso appunto la fibra ottica. Il finanziamento pubblico per la precisione è di 63.181.587,87 euro e rappresenta un passaggio fondamentale per lo sviluppo della società dell'informazione che a livello europeo rappresenta una innovazione significativa. Soddisfazione espressa dal primo cittadino di Mesagne, Franco Scoditti, che ha dichiarato come la notizia sia una svolta importante per la cittadina messapica sul piano dello sviluppo tecnologico per le nuove generazioni.